allora a questo punto le uniche cose che si possono fare sono se voi o comunque qualcuno di voi voglia emulare a fare diciamo una una run come quella che sto facendo io potrebbe mettersi a farmare gli speed drink io il salvataggio ce l'ho quindi alla fine se voglio rifarmi questa parte per avere anche speed drink lo farò successivamente per il momento però non credo di farlo anche perché fondamentalmente non mi servono sono talmente forte o comunque ho la possibilità di essere talmente forte che non ho bisogno appunto di essere anche avido per quanto riguarda gli speed drink però se ovviamente volete essere un po più che ne so efficienti dal punto di vista del combattimento potete tranquillamente utilizzare o comunque rubare gli speed drink senza senza nessun tipo di problema non l'ho messa non ho messo la materia aspetta mettere la hol devo mettere la vol materia forse effettivamente non ce l'ho più messa qualcuno ovviamente facciamo qualche combattimento nel mezzo giusto per velocizzare un po la roba è giusto per rendere un po più divertente 104 tra l'altro bello ah no la hol l'ho messa su su energia ecco perché vero non ce l'ho ancora la seconda anche perché si prenderemo una seconda all materia a breve tra l'altro quindi allora ritorniamo al mercato al mercato murato ovvero wall market che mercato murato non si può letteralmente sentire e vi ricordate le batterie che abbiamo preso prima ci serviranno praticamente adesso qui tra l'altro parte anche una piccola discussione che effettivamente si dovrebbe fare perché se vi faccio vedere l'inventario io ovviamente adesso lo lo riordiniamo esatto perché come potete vedere abbiamo gli oggetti che sono divisi in oggetti ordinari e in rarità la rarità ovviamente sono tutte le gli oggetti unici che possiamo prendere durante il gioco e che quindi ci consentono in generale di poter avere come dire un insieme di roba fondamentalmente per una sorta di piacere personale quindi per una sorta di collezionismo personale ci sono però alcuni oggetti che anche nella sezione degli oggetti utilizzabili hanno un loro valore ben predefinito infatti se io adesso vi faccio vedere abbiamo le batterie queste batterie in realtà inizialmente venivano considerate come rarità successivamente ora non so effettivamente il perché sono state inserite come oggetti comuni tra virgolette ma in realtà le batterie sono degli oggetti che noi possiamo prendere soltanto in questa sessione di gioco cioè non abbiamo la possibilità di poter ottenere batterie o per meglio dire non possiamo ottenere batterie in questo specifico modo quindi così come le abbiamo comprate e così come effettivamente le andiamo ad utilizzare all'interno del gioco sono una cosa che effettivamente mancherebbe nel nostro gameplay in realtà abbiamo tre batterie si possono usare tutte e tre ma io ne utilizzerò soltanto due perché una di queste batterie la voglio nell'inventario la voglio tenere nell'inventario giusto per tenerla come ricordo personale anche perché utilizzare una batteria soprattutto in questa sessione di gioco ci permetterà di ottenere un etere e dato che noi eteri ne abbiamo avuti già più che sufficienza non mi pare il caso di andare a sprecare addirittura una batteria per un etere ok quindi questa diciamo che è un po una discussione che divide i giocatori perché alcuni dicono che effettivamente bisogna utilizzare tutte le batterie per essere completi per essere perfetti al cento per cento alcuni invece dicono che la batteria essendo comunque un oggetto che si ottiene in questa maniera va considerato un pochettino come una rarità e quindi di conseguenza bisogna tenerla nell'inventario un po come il martello su fantasy 9 per quanto riguarda la costruzione appunto del diciamo appunto per quanto riguarda poi la costruzione di cos'era il sidereo se non mi ricordo male e quindi diciamo che il martello che solitamente si tiene per ottenere il finale segreto può essere utilizzato per il crafting e quindi di conseguenza c'è sempre questa discussione che un pochettino fa storcere il naso ai giocatori volete vedere una cosa forte dai seguitemi esatto e qui abbiamo l'indizio che tifa ci aveva tanto preannunciato i miei amici si sono arrampicati su questo cavo per andare di sopra che coraggio si può scalare si porta al mondo di sopra e va bene ci arrampicheremo su questo cavo è una vera e propria follia ha idea di quanti metri sia l'hai sentito anche tu possiamo farcela guarda cosa ti sembra a te il normalissimo cavo a sì beh a me sembra il nostro unico dorato filo di speranza poetico barrett hai ragione se vogliamo salvare eris questa è l'unica soluzione che abbiamo l'unica opzione che abbiamo non sono riuscito a capire la tua analogia barrett ma capisco come ti senti andiamo e qui ovviamente parte la scalata verso il milionario ovviamente e barrett grazie al remake io personalmente l'ho rivalutato molto a me non mi è mai piaciuto tantissimo barrett un po troppo petulante forse invece nel remake lo hanno reso molto più umano cioè il suo essere petulante lo hanno quasi giustificato no quindi te lo hanno fatto apprezzare di più mamma mia che disastro fa paura vero ha detto che è saltata la scirra che è stata la scirra a fallo bravo tuo padre ha un buon occhio e qui adesso entrano in gioco le nostre batterie infatti la prima ora che devo girare da qua eccoci qua la prima dobbiamo inserirla qui inserisco una batteria qui magari quell'elica inizierà a girare immagino che dovrò fidarmi del tipo dell'armeria ecco qua una batteria che tra l'altro è grossa quanto una casa se vedete le proporzioni tra cloud della batteria cioè è una batteria che praticamente è un bambino è letteralmente un bambino ecco qua ok ah no vero posso andare di qua giusto ogni volta sta mappa mi confondo mi si sale oh è impazzito 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 ah eccolo qua perfetto ok mi ricordavo male io lol allora a questo punto invece c'è un'altra cosa che dobbiamo fare quindi andare di qua salire mi ricordavo si saliva da là allora mettiamo la batteria qui e qui attiviamo il cancello ok ora qua saliamo teoricamente la l'altra esatto quanto pare dovrò saltare sì sì ok ora noi tecnicamente potremmo andare di qua vedete da qua noi potremmo utilizzare la terza batteria utilizzando la terza batteria qui si aprirebbe lo scrigno che vedete lì sopra e tecnicamente dovrebbe buttare l'etere dovrebbe buttare l'etere che fondamentalmente dovevo prendere qui però io non lo farò perché come vi ho detto prima voglio tenermi la batteria nel mio inventario quindi non voglio cioè non voglio sprecare tra virgolette la batteria ok anche perché di eteri comunque ne abbiamo a sufficienza quindi non penso di avere bisogno ecco vedete da qui si sarebbe visto il collegamento per inserire l'altra batteria però questi cazzi a me sinceramente non mi interessa utilizzare la batteria quindi quindi va benissimo così preferisco tenerla la considero più come una rarità ecco mettiamola così e già siamo arrivati addirittura all'ingresso Shirra ecco qua bel bannerino ehi cloud tu dovresti sapere tutto di sto palazzo a dire il vero o no anzi ora che ci penso questa è la prima volta che vengo al quartiere generale beh io ho un po' di cose le so sta a sentire pare che i piani oltre il sessantesimo siano speciali neanche gli impiegati possono salirci liberamente di sicuro è lassù che si trova Erith ed è lì che andremo e soprattutto non si aspettano la nostra visita adesso quindi muoviamoci un momento non possiamo mica entrare dall'ingresso principale certo che possiamo prenderemo a calci qualche culo della Shirra e poi sei impazzito dobbiamo trovare un'altra strada non esiste un'altra strada se perdiamo altro tempo Erith lo so anch'io ma se venissimo catturati qui tu che ne pensi ecco qui ovviamente dobbiamo ovviamente assecondare Barrett perché se vi ricordate il nostro obiettivo è quello di incrementare il nostro rapporto di fiducia con Barrett quindi andiamo dalla porta principale così si fa forza muoviamoci ok a questo punto salviamo e tra l'altro come potete notare l'uscita dell'uscita della seconda parte cioè l'uscita secondaria è comunque sbloccata perché si trova lì alla sinistra e noi potremmo effettivamente andare a sinistra anziché andare dritto però dobbiamo seguire il consiglio di Barrett quindi andiamo dritto l'unico oggetto che tecnicamente andiamo a perdere tra virgolette in questo momento dal fatto che non andiamo sulle scale a sinistra è un elisir un elisir che ci viene fornito praticamente a metà percorso quindi man mano che noi saliremo tutte le scale e tra l'altro sono un dito nel culo tra l'altro così giusto per dirlo a metà strada avremo ricompensati con un elisir scusate se non avete un appuntamento dovete non ci serve un appuntamento andiamo di fretta se vuoi vivere ti conviene toglierti dai piedi alla svelta ecco Barrett subito ma chi si credono di esse non sarà mica avalanche intrusi prendeteli e qui ci sono soldati normali che dobbiamo disintegrare come se non ci fosse un domani ok granata un oggetto che come vi ho detto prima ci sarà abbastanza utile a breve presto andiamo di sopra qui ovviamente si potrebbe esplorare e la cosa brutta in realtà a vero che ci sono quelli che scappano la cosa brutta in realtà è che praticamente qui ci saranno degli incontri casuali ma i veri incontri casuali che ovviamente interessano soprattutto per gli equipaggiamenti che si possono prendere in questa zona saranno sopra la cosa che dobbiamo fare qui è questa leggere la tartaruga felice numero 2 vi ricordate i manifesti della tartaruga felice quelli che abbiamo trovato alla casa del bambino lì a midgar al settore 5 ecco questo è il secondo volume diciamo del manifesto che si trova esattamente qui ed è difficile andarlo a recuperare dopo quindi la cosa normale da fare sarebbe andarlo a leggerla adesso la tartaruga felice numero 2 distrutto da un'altra giornata di duro lavoro non vorresti ricaricarti con una bella bella fresca ebbene puoi fai un salto alla taverna la tartaruga felice non c'è niente di meglio di un drink appena finito di lavorare ok queste saranno tutte informe ecco vedete gli incontri casuali che ovviamente arrivano lo stesso però in questo piano ci saranno soltanto soldati questo tipo di soldati che non ci danno niente di interessante vedete anche loro possiedono le granate oggetto che tra l'altro può essere rubato in questo caso cioè se non volete comprare le granate potrete rubarle o addirittura scularle qualora ovviamente le otteniate come oggetto di drop del nemico sconfitto quindi potete ottenere o in un modo o nell'altro però ricordatevi che se effettuate il ruba non potrete successivamente ottenere oggetti di ricompensa per quanto riguarda la sconfitta del vostro avversario quindi o rubate oppure ottenete come drop di ricompensa finale facciamo anche un bello scan visto che adesso possiamo fare gli scan giusto per avere un analisi dei nostri nemici vedete granatiere livello 10 130 pv ok e poi man mano che analisi aumenterà quindi quando prenderà il secondo livello se non mi ricordo male dovrebbe anche far vedere le debolezze le resistenze se non ricordo male perché credo che le uniche informazioni poi forse erano quelle che si aggiungevano critico di barrett oppi allora qui c'è un negozio oggetti che è importante questi li facciamo scappare oh caro guarda che bella quella macchina ti prego comprala fallo per me certo magari aspettiamo che mi diano un aumento però sì ecco perfetto adesso parliamo con la tizia benvenuti in cosa posso esservi ecco prendete i soldi vi prego non vogliamo i tuoi soldi avalanche non è una banda di rapinatori siamo venuti a riprenderci quello che il vostro capo si è preso da noi avalanche non ti faremo del male e se ci venderei qualcosa ti pagheremo pure sì dunque ecco vedete qua possiamo praticamente comprare roba però se notate non ci sono le granate perché ovviamente questo è un negozio di oggetti diciamo normale tra virgolette quindi non avremmo avuto la possibilità di comprare le granate così come in realtà possiamo comprarle in qualsiasi altro negozio dei bassi fondi grazie e tornate ancora a trovarci cioè no meglio se non tornate e poi qui due forzieri che però non possiamo aprire questi saranno due oggetti che si recupereranno dopo e quando dico dopo intendo molto dopo allora prendiamo l'ascensore e adesso qui c'è la parte divertente l'ascensore in questa meccanica vi racconto un attimino che cosa che cosa si può fare all'interno di questo ascensore questo ascensore è abbastanza particolare perché ci permetterà di raggiungere il 58esimo piano ci permetterà di arrivare fino al 58esimo piano però che cosa succede? succede che man mano che noi appunto saliremo verremo in un qualche modo intercettati dai soldati della scirra e bloccheranno tra virgolette l'ascensore più e più volte il blocco dell'ascensore può avvenire diverse volte in base ovviamente al numero che casualmente verrà generato i piani che noi possiamo superare di volta in volta si aggirano sempre dai 7 ai 15 quindi abbiamo la possibilità di poter schippare 7 o 15 piani alla volta cioè un numero tra 7 e 15 quindi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 in base al piano che poi andremo a vedere quindi quando l'ascensore si fermerà ogni volta che noi premeremo questo pulsante apparirà un piano in base al piano che noi troveremo troveremo dei nemici diversi se abbiamo culo perché può anche darsi che potremmo effettivamente avere del culo potremmo iniziare ad incontrare dei nemici che in realtà dovremmo farmare più in là questi nemici ci permettono di ottenere la carbon bengol quindi un'armatura nuova più potente rispetto a quella che abbiamo adesso e tra l'altro questa sarà un'armatura che comunque dovrò farmare per tutti i membri del party successivamente a questi esisteranno soltanto un altro tipo di nemici che dovrò appunto affrontare per rubare ovvero i soldier di terza classe soldier di terza classe che si incontreranno nei piani superiore al 60 questi soldati per l'appunto permetteranno di rubare la prima arma extra di Cloud ovvero l'hard hedge che non so come l'hanno tradotto effettivamente qui nella versione italiana quindi vediamo effettivamente che cosa succede non volevano avere problemi finché non avessimo salvato eris anche se me lo sentivo che non poteva essere così facile che c'è mi stai facendo venire brividi allora pure tu ogni tanto combatti per qualcun altro ti avevo giudicato male non sono interessato a quello che tu pensi di me volevo dire mi dispiace per tutto capito ecco vedete qui si interrompe la prima volta l'ascensore che dovrebbe partire dal 13 se non mi ricordo male proprio il primo piano dovrebbe essere forse il 13 di default ah no 16 quindi può partire anche da un po' più in alto ok quindi in questo caso abbiamo sculato praticamente 3 perché partiamo da 13 e arriviamo ecco vedete questi sono nemici che non mi interessano quindi possiamo fare creo tranquillamente anche se questi sono deboli al tuono vedete e si sblocca il secondo nemico qui la maggior parte dei nemici sarà tutta debole al tuono possiamo fare le magie di livello base perché siamo talmente forti che possiamo tranquillamente shottarli la cosa figa di questo la cosa figa di questo diciamo di questa sessione è che per ogni volta che l'ascensore si apre e si chiude con la possibilità di farci incontrare dei nemici noi possiamo curarci che possiamo controllare le materie possiamo fare un po' quello che ci pare possiamo letteralmente fare quello che ci pare va bene prossimo giro prossima corsa vediamo 27 uh qua abbiamo sculato un pochettino e 27 dovrebbero essere i soldati granatieri esatto perché ci sono dei range di piani cioè ci sono dei range di piani dove i nemici sono sempre gli stessi ora tecnicamente se riuscissi a sculare il piano 37 o comunque piani che si aggirano al 37 incontreremo i primi nemici che mi permettono di ottenere la carbon bangle quindi se sculo il 37 o un piano tipo 35 38 una cosa del genere dovremmo dovremmo poter trovare il primo carbon bangle 42 eh siamo andati mi sa troppo in alto peccato eh infatti qui c'è il vermone e tanto non mi ricordo se potevo rubare le cose come si chiama aspetta cosa chiedevi tu non me lo ricordo vabbè fa un culo tre va mi interessa tanto non ha niente che mi interessa questo qua peccato se avessi sculato il piano 37 o 36 avrei ottenuto il primo carbon bangle 50 quindi al prossimo teoricamente abbiamo finito perché arriviamo o 58 minimo e poi oh attenzione eccolo qua ah no questo è quello col martello no non è lui non è lui che devo che devo eliminare cioè che devo rubare anzi perché lui ha l'erba dell'erba eh dall'inizio appena l'avevo visto mi sembrava quello che stavo cercando in realtà non è lui vabbè lo incontreremo dopo non è un problema ok e qui abbiamo finito ecco 59 quindi siamo arrivati al piano che ci interessava qui possiamo eliminare i soldati questi li possiamo eliminare direttamente perché non hanno niente che ci interessa facciamo le magie così ci sbrigiamo prima che bello visto come 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 vengono shottati easy che bellezza mentre invece sul remake questi sono dei diti nel culo che non avete idea sono fastidiosissimi in una maniera pazzesca calmante ok non male non male e adesso prendiamo la keycard per arrivare al piano 60 quindi adesso inizia la scalata verso i piani diciamo importanti della scena vedete ogni tessera praticamente ci permette di arrivare a un piano diverso quindi noi in questo caso siamo limitati al 60 perché non possiamo andare oltre per ogni piano ci vuole appunto una tessera diversa qui abbiamo la guardia che si appisola quindi non ci vede culo e qui siamo giunti al piano 60 piano 60 che comunque rappresenta una come dire un primo blocco tra virgolette per il giocatore mentre invece il 61 poi sarà una sorta di area di ristoro quindi qua non c'è nulla di interessante le guardie ovviamente non ci faranno passare quindi dobbiamo andare di qua qui non c'è nulla e qua parte un piccolo minigioco guarda quelle dannate sentinelle come fanno avanti e indietro cloud vai avanti e faccio un cenno quando possiamo raggiungerti esatto qui dobbiamo fare in modo che cloud passi in avanti e poi successivamente una volta che per l'appunto passa cloud far passare praticamente gli altri no pensavo si fossero mossi cazzo volevo anticiparli vabbè ovviamente non c'è nulla di di pericoloso ovviamente solamente il fatto che se venite beccati praticamente verrete attaccati da dei nemici e poi praticamente dovrete ricominciare tutto qua nulla di nulla di particolare effettivamente mi sono mosso un po' troppo presto perché la prima parte ovviamente i nemici sono lenti mentre invece nella nella seconda parte sono un po' più veloci invece nella prima nella prima parte ovviamente sono lenti quindi è inutile rushare diciamo la la corsa si può tranquillamente aspettare che loro facciano tutto il movimento completo mentre invece nella seconda fase si può effettivamente anticipare il movimento di un pelo dato che comunque correranno e non cammineranno più il diavolo stai combinando si si lo so l'ho capito tra l'altro devo stare attento ecco così ok e ora devo fare praticamente la stessa cosa con gli altri quindi vedete devo farli venire in avanti appena loro si girano prima con barrett e poi con tifa stessa identica cosa bisogna fare attenzione perché se vengono beccati diciamo anche i tuoi compagni in generale puoi avere un problema cioè praticamente si ricomincia anche se vengono beccati praticamente gli altri quindi passa il primo ora facciamo passare anche tifa e poi una volta che passa tifa passiamo tutti abbastanza facile in realtà così si fa stiamo andando alla grande calma ricorda che siamo qui solo per salvare piamine lo so ok piano 61 vedete un piano che è praticamente una zona ristoro dei diciamo dei dipendenti o comunque dei dirigenti no della scirra il nostro obiettivo è parlare con questo e tu chi diavolo sei cosa ci fai qui eris se la conosci devi essere eris è quella ragazza no quella che lavora alla reception sai a dir la verità è un po' che le faccio la corte immagino tu sei il classico rivale che fa la sua comparsa non stavi parlando di lei dimentica tutto allora mi sa che allora è lui l'hanno cambiato come skin dove è il tizio che mi dà la chiave e vabbè qui ci rifanno ma dovrebbe essere l'hanno messo qui vabbè qua mi spiega effettivamente quello che dobbiamo fare i dirigenti della compagnia usano spesso quelli del sessantesimo in poi per non invece è impossibile arrivarci senza una tessera con una di quelle è possibile utilizzare scale e ascensori liberamente per usare l'ascensore tutto quello che devi fare è premere conferma davanti alla porta e voilà la porta si apre facendo quel suono che hai appena sentito ricordo che ci sono diversi tipi di tessere con una tessera sola non potrai andare dove ti pare per esempio con la tessera 60 potrai arrivare fino al sessantesimo piano mentre con la tessera 65 fino al sessantacinquesimo è così che funziona tutto chiaro anche se per essere più precisi ci sono alcune tessere che ti sbloccano fino a 8 piani e altre che sono specifiche solo per quei piani un livello di sicurezza del genere è normalità qui in fondo la scirra è l'unica fornitrice di energia di Midgar e del mondo intero soprattutto scusa non avevo intenzione di dilungarmi così tanto beh buona fortuna allora col cuoricino perché cloud praticamente è uno sciupa femmine ah ho capito tu devi essere uno di quel gruppo giusto tutti quelli di cui stanno parlando tutti ok manutenzione ok dovevo mettere i pallini ecco perché devono chiedere anche agli altri prendi questa ok tessera di livello 62 quindi adesso possiamo raggiungere il piano 62 parlare con gli altri in realtà non serve a niente quindi possiamo andare tranquillamente via un po' Grazie a tutti.